Amen, alleluia, alleluia, gloria a te Padre, alleluia Padre, ti ringraziamo ancora in questa giornata Signore per la tua bontà, la tua misericordia Signore Gesù Cristo, siamo qui davanti a te Signore, ti invochiamo Signore, ti chiediamo ancora lavaci, purificaci Signore, Signore, lava i nostri cuori, le nostre menti, le nostre anime, Signore illuminaci, alleluia Padre, con la luce della tua gloria, con la luce della tua presenza, con la luce del tuo spirito, con la tua shekinah, avvolgici Signore, illumina la nostra vita, le nostre menti, le nostre anime, il nostro cuore sia ripieno della tua presenza, della tua conoscenza, Signore, abbiamo bisogno della tua parola, Signore, perché siamo negli ultimi tempi, Signore, c'è tanta confusione, tanto smarrimento, tanta freddezza spirituale, ma noi vogliamo che la tua parola, Signore, accenda un fuoco nei nostri cuori, vogliamo cibarci della tua parola, vogliamo alimentarci della tua parola, Padre, o Dio del cielo, ti chiediamo parlaci mediante la tua parola, che vogliamo leggere, aiutaci ad avere una mente, un cuore concentrato, un cuore concentrato in te, quando leggiamo, mentre leggiamo, vogliamo avere un cuore concentrato, alleluia, per la tua gloria, per la tua grazia, per la tua bontà, la tua misericordia, illumina i nostri cuori, alleluia, facci avere nuove forze, facci avere la gioia nella tua parola, alleluia, alleluia, Padre, Abba, Padre, benedici, fortifica, riempi, sostieni, incoraggia tutti i fratelli, tutte le sorelle, Signore, facci stare uniti nello spirito, guardare solo a te, alleluia, amare solo a te, adorare solo a te, Signore, ravviva i nostri cuori, vivificaci per mezzo della tua parola, che leggeremo, alleluia, guida tu ogni cosa, nel nome di Gesù, alleluia, 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 ti ringraziamo, Padre, ti adoriamo, Padre, nel nome del tuo figliuolo Gesù Cristo, il benedetto in eterno, amén, amén, alleluia, 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 grazie, Padre, la tua parola è vita, la tua parola ci dà gioia, ci dà forza, rinnova la nostra vita, Padre, rinnova la nostra mente, alleluia, vogliamo essere ancora rivestiti dell'uomo nuovo, alleluia, nel nome di Gesù Cristo, Dissolvi ogni male, dissolvi ogni pensiero, Padre, umano, carnale o diabolico, Signore, sgrida ogni tenebra, alleluia, che sia la tua luce, che sia la tua presenza, la tua verità, Signore, a regnare in noi e attraverso di noi, Ti ringrazio, Padre, ti ringrazio, ti ringrazio, ti ringrazio, apri gli occhi spirituali del tuo popolo, Signore, gloria a Dio nel nome di Gesù, gloria, 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 Ti ringraziamo per la tua parola, la tua presenza, che ci danno la vita, ci danno la vita, alleluia, la vita, gloria, 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 gloria al Signore l'Eterno, alleluia, gloria a Dio, pace del Signore, popolo di Dio, popolo del Dio vivente, ringraziamo il Signore ancora in questa giornata, gloria a Dio, che al di là delle nostre difficoltà, possiamo essere uniti, gloria a Dio nella santa e divina presenza del Signore, siamo una famiglia, gloria a Dio spirituale, amen, e in Cristo troviamo il nostro conforto, so che stiamo vivendo tempi difficili, ognuno di noi, amen, tempi difficili in vari aspetti, perché veramente siamo negli ultimi tempi, la Bibbia dice che l'amore dei molti si raffredderà, molti verranno meno nella fede, c'è una battaglia, c'è uno sconvolgimento nelle nazioni e purtroppo, fratelli, anche nelle comunità la condizione spirituale è, possiamo dire, critica in molti ambienti, perciò abbiamo delle battaglie dentro e fuori, amen, perciò dobbiamo rafforzarci in una profonda comunione con Dio, in una vita di preghiera, in una vita di lettura biblica, alleluia, in una vita di comunione con lo Spirito Santo, ecco perché ci raduniamo qui su internet per leggere insieme la parola, amen, alleluia, gloria a Dio, vogliamo leggere insieme, vogliamo continuare nelle nostre letture bibliche, siamo arrivati al capitolo 8 del Vangelo di Matteo, leggere insieme così come il Signore ci guiderà, ci parlerà tramite la sua parola, vogliamo semplicemente leggere, gloria a Dio e ascoltare la voce dello Spirito, ricevere nuove forze mediante la parola, dice nei salmi la rivelazione, la rivelazione o la conoscenza, un'altra versione dice la dichiarazione, la dichiarazione delle tue parole illumina e dà intelletto ai semplici, perciò vogliamo che la parola ancora oggi, alleluia, compie il suo lavoro nella nostra vita, abbiamo bisogno, tu hai bisogno, io bisogno che la parola di Dio lavori oggi nella nostra vita, alleluia, per andare avanti, alleluia, nel nome di Gesù, Padre ancora ti ringraziamo, siamo qui assettati, bisognosi Signore, alleluia, tu conosci le lotte, le battaglie, le difficoltà che ognuno sta affrontando in vari campi, in vari aspetti, ma tu Signore sei la vittoria, Signore sei tu il re dei re che combatte per noi, alleluia, tu sei l'Eterno, l'Altissimo, il sostegno, il fondamento, la colonna della nostra vita, Signore Gesù ti prego, alleluia mio Dio, parlaci, che questa parola vivifichi il nostro cuore, l'anima, che questa parola potente rinnovi la nostra mente, ci riempia di luce, di sapienza, di gioia, di forza, per andare avanti nella fede, Signore, perché il giusto vivrà per fede, dice Padre mio la tua parola, alleluia, Signore che il giusto vivrà per fede e che la fede viene dall'udire e in questo momento noi vogliamo udire, udire la tua parola, Signore che la tua parola penetri in ogni cuore e lavori secondo il bisogno, secondo, Signore, la necessità di ognuno, ma soprattutto secondo la tua volontà, alleluia, apri le nostre orecchie Padre, sazia le nostre vite, gloria al tuo nome perché noi abbiamo capito che senza di te noi non possiamo vivere, Signore, senza la tua parola noi non ce la facciamo, Signore, la tua parola è vita per noi, alleluia, 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 nel nome meraviglioso di Gesù, fai una grande opera in questa riunione, Padre, che il fiume d'acqua viva scenda verso ogni cuore in questo momento, fai scendere quel fiume, Padre, siamo qui radunati per fede davanti a te, Signore, io credo che il fiume sta scendendo, alleluia, per rigenerare, per dissetare, per riempire ogni cuore, per lavare, purificare, alleluia, alleluia, scenda quel fiume glorioso, alleluia, 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 nel nome di Gesù, Signore, ricolma, Signore della tua grazia, ogni fratello, ogni sorella, da nord a sud dell'Italia, Signore, in ogni luogo d'Europa, del mondo, mio Dio, alleluia, nel nome di Gesù, perché tu hai ancora, Signore, delle ginocchia che non si sono piegate a Baal, alleluia, tu hai ancora dei figli che non si sono piegati a Baal, o al mondo, alleluia, e noi vogliamo, Signore, che tu ci alimenti, Padre mio, alleluia, come mandavi i corvi per alimentare il profeta Elia, Signore, manda anche a noi, Signore, quel cibo spirituale, nel nome di Gesù Cristo, in questi tempi di confusione, di decadenza, Signore, di crisi nelle nazioni, Signore, di crisi nelle chiese, Signore, noi vogliamo cibarci da Te, Padre mio, alleluia, nel nome di Gesù, alleluia, 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 facci vedere il tuo volto, facci conoscere di più, Signore, il tuo carattere, il tuo grande amore, la tua persona, oh Dio del cielo, ci umiliamo davanti a Te, alleluia, 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 grazie Gesù, alleluia, grazie Padre, grazie Santo Spirito di Dio, amen, amen, gloria a Dio, vogliamo leggere, alleluia, Matteo, capitolo 8, amen, vogliamo leggere l'intero capitolo di Matteo, amen, a Dio sia la gloria e come Dio ci guiderà, continueremo la lettura, amen, amen, grazie Padre, nel nome di Gesù, ora, quando Egli, amen, fu sceso dal monte, grandi folle lo seguirono, ed ecco un lebroso, venne e lo adorò, alleluia, dicendo, Signore, se vuoi, tu puoi mondarmi, purificarmi, Gesù distesa la mano, lo toccò, amen, dicendo, sì, io lo voglio, sì mondato, alleluia, e in quell'istante Egli fu guarito dalla sua lebra, allora Gesù gli disse, guardati dal dirlo ad alcuno, ma va, mostrati al sacerdote e presenta l'offerta prescritta da Mosè affinché questo serva loro di testimonianza. Quando Gesù fu entrato in Capernaum, un centurione venne a lui pregandolo e dicendo, Signore, il mio servo giasce in casa paralizzato e soffre grandemente, e Gesù gli disse, io verrò e lo guarirò. Il centurione rispondendo disse, Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Amen, alleluia, di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Perché io sono un uomo sotto l'autorità di altri e ho sotto di me dei soldati e se dico all'uno va, Egli va, e se dico all'altro vieni, Egli viene, e se dico al mio servo fa questo, Egli lo fa. E Gesù avendo udite queste cose si meravigliò e disse a coloro che lo seguivano, in verità vi dico che neppure in Israele ho trovato una così grande fede. Amen, gloria a Dio. Or io vi dico che molti, molti verranno da Levante e da Ponente e sederanno a tavola con Abramo, con Isacco e con Giacobbe nel regno dei cieli. Ma i figli del regno saranno gettati nelle tenebre di fuori, lì sarà il pianto e lo stridor di denti. E Gesù disse al centurione, va e ti sia fatto come hai creduto. E il suo servo fu guarito in quell'istante. Verso 14. Poi Gesù è entrato nella casa di Pietro, vide che la suocera di lui era a letto con la febbre. E Degli le toccò la mano, alleluia, e la febbre la lasciò, ed ella si alzò, alleluia, e prese a servirli. Amen. Ed Egli le toccò la mano, alleluia, e la febbre la lasciò, Amen. Ed ella si alzò, e prese a servirgli. Ora fatto si sera, gli furono presentati molti indemoniati, ed Egli con la parola scacciò gli spiriti, e guarì, e guarì tutti i malati. Affinché si adempisse ciò che fu detto dal profeta Isaia, quando disse, Egli ha preso le nostre infermità e ha portato le nostre malattie. Verso 18. Ora, Gesù vedendo intorno a sé grandi folle, comandò che si passasse all'altra riva. Allora uno scriva, accostandosi, gli disse, Maestro, io ti seguirò dovunque tu andrai. E Gesù gli disse, le volpi hanno delle tane, gli uccelli del cielo, dei nidi, ma è il figlio dell'uomo, non ha neppure dove posare il capo. Poi un altro dei suoi discepoli gli disse, Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Ma Gesù gli disse, seguimi, alleluia, seguimi e lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Verso 23. Ed essendo Egli salito nella barca, i Suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco, ed ecco sollevarsi in mare una tempesta così violenta che la barca era coperta dalle onde. Or, Egli dormiva, e i Suoi discepoli, accostatisi, lo svegliarono dicendo, Signore, salvaci, noi periamo. Ma Egli disse loro, perché avete paura, uomini di poca fede? E alzato si sgridò i venti e il mare, e si fece gran bonaccia. Allora gli uomini si meravigliarono e dicevano, chi è costui al quale anche il mare e i venti ubbidiscono? Chi è costui al quale anche il mare e i venti ubbidiscono? Alleluia. Verso 28. Amén. Matteo 8, 28. E quando giunse all'altra riva, nella regione dei Gergeseni, lì si fecero incontro due indemoniati, usciti dai sepolcri, tanto furiosi che nessuno poteva passare per quella via. Ed ecco, essi si misero a gridare dicendo, che vi è tra noi e te, oh Gesù, figlio di Dio? Amén. Gloria, gloria, gloria. Alleluia. Che vi è tra noi e te, oh Gesù, figlio di Dio? Sei tu venuto qui per tormentarci prima del tempo? Non lontano da loro vi era un grande branco di porci che pascolava e i demoni lo pregavano dicendo se tu ci scacci permettici di andare in quel branco di porci. Ed egli disse loro andate. Così essi usciti se ne andarono in quel branco di porci. Ed ecco tutto quel brano di porci si precipitò dal dirupo nel mare e morirono nelle acque. Coloro che li custodivano fuggirono e andati nella città raccontarono tutte queste cose incluso il fatto degli indemoniati. Ed ecco tutta la città uscì incontro a Gesù e come lo videro lo pregarono di allontanarsi dal loro territorio. Amén. Vogliamo continuare la lettura qui nel Vangelo secondo Matteo vogliamo leggere Amén insieme Dio benedica tutti i fratelli e le sorelle che si stanno unendo alla nostra lettura biblica gloria a Dio della santa ed eterna parola di Dio della santa e benedetta parola di Dio che ci ciba ci illumina ci fortifica Amén. Un saluto a tutti nell'amore del Signore e ci stiamo dedicando alla lettura che è veramente necessaria fratelli per noi per prendere nuove forze per cibarci spiritualmente gloria a Dio nella parola del nostro Signore Amén. Vogliamo leggere ancora Matteo capitolo 9 vogliamo continuare la lettura gloria a Dio Amén e poi Dio piacendo questa sera avremo la riflessione biblica avremo ancora la riunione alle ore 21 alle 21 e 30 circa eh gloria a Dio se va bene per voi se non è troppo tardi Amén potete dirmelo gloria a Dio Amén siamo qui al servizio del Signore gloria al Signore Alleluia perciò alle ore 21 e 30 circa gloria a Dio Amén o 21 Alleluia faremo un'altra riunione avremo la riflessione biblica e continueremo con l'aiuto di Dio a parlare riguardo alle piaghe dell'Egitto Amén vogliamo continuare la lettura Matteo capitolo 9 Amén Alleluia nel nome di Gesù Cristo Alleluia grazie Padre Amén Matteo 9 verso 1 Ed egli salito sulla barca Amén passò all'altra riva e venne nella sua città ed ecco gli fu presentato un paralitico disteso sopra un letto e Gesù vista la loro fede disse al paralitico figliuolo fatti animo Alleluia i tuoi peccati ti sono perdonati Amén Figliuolo fatti animo i tuoi peccati ti sono perdonati Alleluia fra se costui bestemmia ma Gesù conosciuti i loro pensieri disse perché pensate cose malvagie nei vostri cuori infatti che cosa è più facile dire i tuoi peccati ti sono perdonati oppure alzati e cammina ora affinché sappiate che il figlio dell'uomo ha autorità in terra di perdonare i peccati alzati disse al paralitico prendi il tuo letto Alleluia e vattene a casa tua Amén Ed egli alzatosi se ne andò a casa sua Amén Alleluia le folle veduto ciò si meravigliavano e glorificavano Dio che aveva dato tale potere agli uomini Amén gloria al Signore verso 9 Alleluia Poi Gesù passando oltre vide un uomo che sedeva al banco delle imposte chiamato Matteo e gli disse seguimi seguimi ed egli alzatosi lo seguì e avvenne che mentre Gesù era a tavola in casa molti pubblicani e peccatori vennero e si misero a tavola con lui e con i suoi discepoli i farisei veduto ciò dissero ai suoi discepoli perché il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori e Gesù avendo sentito disse loro Alleluia non sono i sani che hanno bisogno del medico ma i malati non sono i sani che hanno bisogno del medico ma i malati gloria al Signore grazie a Gesù or andate e imparate che cosa significa io voglio misericordia e non sacrifici perché perché io non sono venuto a chiamare a ravvedimento i giusti ma i peccatori perché io non sono venuto per chiamare a ravvedimento i giusti ma i peccatori gloria a Gesù Cristo grazie Signore verso 14 Matteo 9 14 Alleluia Allora si accostarono a lui i discepoli di Giovanni e gli dissero perché noi e i farisei digiuniamo spesso mentre i tuoi discepoli non digiunano e Gesù disse loro possono gli amici dello sposo essere in lutto mentre lo sposo è con loro ma verranno i giorni in cui lo sposo sarà loro tolto e allora digiuneranno nessuno mette un pezzo di stoffa nuova su di un abito vecchio perché ciò porta via il rattoppo e lo strappo si fa peggiore neppure si mette del vino nuovo in otri vecchi altrimenti gli otri si rompono e il vino si spande e gli otri si perdono ma si mette il vino nuovo in otri nuovi alleluia così si conservano entrambi gloria al signore verso 18 alleluia mentre egli diceva loro queste cose uno dei capi della sinagoga si avvicinò e si inchinò davanti a lui dicendo mia figlia è morta proprio ora ma vieni metti la mano su di lei ed ella vivrà e Gesù alzatosi lo seguì insieme ai suoi discepoli ed ecco una donna affetta da un flusso di sangue già da dodici anni gli si accostò di dietro e toccò il lembo della sua veste perché diceva fra sé se riuscirò anche solo a toccare la sua veste sarò guarita alleluia 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 gloria a Dio se riuscirò anche solo a toccare la sua veste sarò guarita Gesù voltatosi e vedutala le disse fatti animo figliuola la tua fede ti ha guarita gloria al Signore da quell'ora la donna fu guarita amè quando Gesù arrivò in casa del capo della sinagoga e vide i sonatori di flauto e la folla che faceva strepito disse loro ritiratevi perché la fanciulla non è morta ma dorme ed essi lo deridevano poi quando la folla fu messa fuori egli entrò prese la fanciulla per la mano ed ella si alzò la fama di ciò si divulgò per tutto quel paese amè gloria a Dio verso 27 e mentre Gesù partiva di là due ciechi lo seguirono gridando e dicendo abbi pietà di noi figlio di Davide quando egli entrò in casa quei ciechi si accostarono a lui Gesù disse loro credete che io possa fare questo essi gli risposero sì signore allora egli toccò loro gli occhi dicendo vi sia fatto secondo la vostra fede amè benedetto il signore e i loro occhi si aprirono poi Gesù ordinò loro severamente dicendo badate che nessuno lo sappia ma essi usciti fuori divulgarono la sua fama per tutto quel paese ora come come quei ciechi uscivano gli fu presentato un uomo muto e indemoniato e quando il demone fu scacciato il muto parlò e le folle si meravigliarono dicendo non si è mai vista una simile cosa in Israele alleluia ma i farisei dicevano egli scaccia i demoni con l'aiuto del principe dei demoni verso 35 e Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi insegnando nelle loro sinagoge predicando l'evangelo del regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità fra il popolo vedendo le folle ne ebbe compassione perché erano stanche disperse come pecore senza pastore verso 36 vedendo le folle ne ebbe compassione perché erano stanche disperse come pecore senza pastore allora egli disse ai suoi discepoli la messe è veramente grande ma gli operai sono pochi pregate dunque il signore della messe che spinga degli operai nella sua messe amén amén vogliamo ringraziare il signore insieme per questa parola e che questa parola rimanga piantata nei nostri cuori abbiamo letto ha parlato tanto di guarigione amén ha parlato ha parlato di guarigione amén di seguire Cristo ha parlato di liberazione la parola di Dio ha parlato di fede ha parlato anche di occhi che si aprono due ciechi guariti i loro occhi si aprirono ha parlato alleluia la parola di Dio di occhi che si aprono amén e poi ha parlato di pregare perché gli operai sono pochi amén vogliamo alleluia insieme ringraziare il signore amén perché lui è con noi amén noi siamo nella barca col signore e anche se vengono le tempeste gloria a Dio amén noi siamo sicuri in lui la parola ci ha parlato anche di questo amén ma Gesù disse loro uomini di poca fede perché avete paura allora fratelli noi non vogliamo avere paura noi non vogliamo avere preoccupazioni noi non vogliamo dare spazio ai pensieri negativi ma vogliamo pregare il signore che scacci via ogni pensiero malvagio amén e che possiamo stare ogni giorno sempre di più amén calmi tranquilli fiduciosi nella presenza del signore nella barca con Gesù la tempesta è fuori fratelli ma noi siamo nella barca noi siamo dentro a volte le tempeste arrivano ma sono fuori gloria a Dio amén alleluia noi siamo nella barca con il maestro amén con Cristo con l'onnipotente e noi ci rifugiamo all'ombra delle sue ali sotto le sue mani potenti gloria a Dio alleluia noi siamo sicuri gloria a Dio amén perché lui è con noi lui calma le tempeste calma i venti e ci fa vedere la sua gloria e la sua potenza la parola ci ha parlato fratelli di tante cose meravigliose guarigione liberazione amén della calma della pace che ci dà il signore la sicurezza amén e noi abbiamo ogni cosa in lui perciò rimaniamo fermi nella sua presenza vogliamo ringraziare il signore gloria a Dio padre alleluia Dio nostro grazie perché in te abbiamo la piena certezza la piena fiducia abbiamo signore quella pace che il mondo non ci può dare signore quella pace alleluia che solo tu Gesù ci puoi dare grazie perché noi siamo tuoi noi siamo nella barca con te signore alleluia e sei tu che intervieni quando c'è la tempesta che ci soccorri che ci aiuti che ci liberi signore grazie per la tua presenza la tua parola alleluia la tua parola è vita padre fai sì che queste parole che abbiamo letto ci incoraggino ci illuminino signore rafforzino la nostra fede ci riempiano alleluia di quella luce di quella gioia di quella unzione per andare avanti nel cammino signore per non venire meno signore ma per andare avanti nella tua chiamata perché tu ci dici signore ognuno ognuno di noi seguimi seguimi alleluia noi vogliamo seguirti signore ecco perché siamo qui in preghiera siamo qui signore a meditare la tua parola siamo qui signore a cercarti a cercare nuove forze nello spirito signore che la tua parola che abbiamo letto conforti rinnovi alleluia guarisca dove c'è da guarire alleluia spezzi i legami alleluia ci purifichi ci santifichi perché la tua verità ci santifica alleluia la tua parola è l'acqua spirituale che santifica padre che prepara una chiesa gloriosa senza macchia senza ruga né alcun chiedi simile ma una chiesa santa aiutaci a essere signore una chiesa santa un popolo santo credenti santi per te signore che sia la tua parola a compiere signore un'opera di purificazione di rinnovamento spirituale di risveglio spirituale in ognuno di noi nei nostri cuori signore come tu hai detto al paralitico alzati e cammina alleluia così ancora quest'oggi tu vuoi dire a ognuno di noi vuoi dire alla tua chiesa alzati chiesa alzati anima alzati fratello alzati figlio mio figlia mia alzati alleluia io ti do la forza io ti do la potenza alleluia non ti lamentare non venire meno alleluia non dare spazio ai pensieri ma alzati nel nome di gesù cristo e prendi forza e scaccia via ogni pensiero che non viene dal re dei re sì signore noi prendiamo forza in te alleluia in questo momento riceviamo forza dall'alto alleluia e ci fortifichiamo nella forza della tua grande potenza nella forza dello spirito della parola alleluia 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 signore noi riceviamo nuove forze spirituali forze nell'anima nella fede e anche nel corpo gloria a dio alleluia scacciamo via ogni cosa malvagia ogni cosa negativa ogni pensiero ogni freccia del diavolo sia spenta mediante la fede lo scudo della fede ti amiamo Gesù ti amiamo Gesù ti amiamo Gesù alleluia vogliamo stare in comunione con te giorno e notte siamo negli ultimi tempi aiutaci signore rinfrancaci signore alleluia 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 guarisci il tuo popolo da ogni malattia come abbiamo letto che tu hai toccato hai toccato la suocera di Pietro e la febbre andò via all'istante ti prego signore togli via ogni febbre ogni malattia spirituale signore ogni male signore che vuole disturbare la vita dei tuoi figlioli signore sgrida ogni malattia spirituale o materiale nel nome di Gesù vogliamo essere forti e sani vogliamo essere forti e vigorosi nel tuo amato figliolo Gesù Cristo alleluia perché tu sei santo 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 tu sei la vita eterna ti amiamo Gesù grazie per le tue parole che ci confortano ci incoraggiano ci illuminano ci sostengono ci danno padre quella acqua viva nei nostri cuori signore fai scorrere l'acqua viva nel cuore di ogni sorella di ogni fratello se c'era qualcuno signore scoraggiato afflitto abbattuto che in questo momento padre la tua mano potente scenda su di loro alleluia rialzando vivificando mettendo padre quella forza spirituale nel cuore alleluia di ognuno signore alleluia togli via ogni scoraggiamento perché tu dicevi padre alle persone fatti animo fatti animo la tua fede ti ha guarito fatti animo i tuoi peccati ti sono perdonati fatti animo io ti guarisco alleluia alleluia sì signore vogliamo la tua mano su di noi signore alleluia 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 nel nome di Gesù Cristo fatti animo fratello sorella oh anima fatti animo nel nome del signore fatti animo alleluia sì signore vogliamo farci animo in te alleluia che sei la fonte di bene di grazia e di vita signore nel nome di Gesù ti prego allo stesso modo padre abbi pietà misericordia signore delle nostre famiglie signore dei nostri parenti signore risveglia illumina libera i cuori signore salva salva i nostri familiari i nostri parenti metti ordine nelle nostre case padre santo nel nome di Gesù alleluia e ti preghiamo per le anime perdute salva libera padre spezza le catene del male del peccato signore distruggi ogni catena ogni fortezza di malvagità caccia via gli spiriti nel nome di Gesù vadano via gli spiriti nel nome di Gesù Cristo alleluia signore manda operai nella tua messe fai sì che ci siano uomini veri uomini sinceri uomini spirituali che possano signore servirti che possiamo insieme padre operare nel nome di Gesù Cristo signore alleluia fai sì che ci siano uomini consacrati donne consacrate perché abbiamo bisogno signore di veri fratelli di vere sorelle per andare avanti per incoraggiarci per sostenerci gloria a Dio alleluia fai crescere il tuo popolo padre anche questa comunità qui su internet alleluia 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 aggiungi ancora dei veri fratelli che possiamo insieme essere come un esercito gloria a Dio per vedere la potenza di Cristo la gloria di Cristo manda operai signore nel nome di Gesù faccia avere dei veri fratelli al nostro fianco con i quali possiamo insieme guerreggiare con le armi spirituali uniti nell'amore uniti nella fede uniti in Cristo Gesù padre per la tua gloria per tenere alta la bandiera dell'Evangelo signore in questi tempi bui in questi luoghi padre difficili vogliamo tenere alta la bandiera dell'Evangelo e proclamare che in Cristo c'è vittoria in Cristo c'è salvezza liberazione guarigione alleluia nel nome di Gesù che c'è vita eterna nel nostro Signore Gesù Cristo Signore aiutaci a conservare questa parola nei nostri cuori Signore a ritenerla meditarla che continui a parlare profondamente a ognuno di noi parla in un modo personale diretto chiaro a ogni cuore a ogni vita padre e che possiamo mettere in pratica la tua parola mio Dio alleluia alleluia nel nome di Gesù riempi di Spirito Santo le nostre vite la vita dei miei fratelli delle mie sorelle riempile di Spirito Santo i miei fratelli dovunque si trovano le mie sorelle le tue figlie i tuoi figli Signore riversa una potente unzione dall'alto di Spirito e di potenza Signore per andare avanti nella tua volontà padre ti amiamo alleluia ti adoriamo ti ringraziamo ti benediciamo nel meraviglioso nome di Gesù Cristo alleluia 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 il benedetto in eterno nell'ome di Gesù Cristo amén 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 gloria 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 Dio alleluia rimanete nella pace rimanete nella barca con Gesù alleluia non andate altrove non guardate altrove non guardate le tempeste che sono fuori ma guarda Cristo che è dentro alleluia non guardare i venti contrari che sono fuori non guardare le tenebre che sono fuori non guardare le cose di fuori ma guarda Cristo che è dentro la vita che è dentro la gloria che è dentro la potenza che è Cristo che è dentro alleluia Cristo è la potenza Cristo è la vita guarda dentro alleluia guarda Lui alleluia tocca le sue vesti e riceverai potenza nel nome di Yeshua Adonai, alleluia, il Cristo, il figlio di Dio, guardalo a lui, guardalo, guarda a lui, non guardare fuori, fuori dalla barca, ascolta, fuori dalla barca c'è solo morte, fuori dalla barca c'è solo confusione, tenebre, fitte, tenebre, fuori dalla barca ci sono venti contrari, ci sono demoni fuori dalla barca, fratelli, c'è lo smarrimento, c'è il caos, c'è la distruzione, ma dentro la barca c'è la vita, alleluia, c'è la gloria, c'è la pace, la benedizione, andara, masciara mai, e anche se tutto il mondo è in tempesta, ma se Cristo è nella nostra barca, noi siamo nella barca di Cristo, alleluia, fratelli, per certo noi arriveremo dove Dio vuole che arriviamo, amè, prendi questa parola, guarda dentro, guarda Cristo, guarda la potenza, guarda la verità, guarda la luce, la gloria, perché lui è con noi, lui è nella barca, rimaniamo nella barca, nella barca dell'eterno, alleluia, sì signore, facci guardare solo a te Gesù, che il nostro occhio non vada fuori, alleluia, faccia avere l'occhio spirituale, faccia avere il fuoco padre, l'unzione dei nostri occhi, e che i nostri occhi non vadano a guardare fuori, verso le tenebre, verso il peccato, verso il mondo, verso i piaceri, verso l'inganno, noi vogliamo guardare solo Cristo, autore, compittore della fede, e vogliamo aggrapparci a lui, che è la potenza di Dio, aggrappiamoci a Cristo, chiesa, fratelli, sorelle, alleluia, aggrappiamoci a Cristo, la potenza, la parola, la verità dell'iddio vivente, aggrappiamoci a Gesù, aggrappiamoci a lui, aggrappiamoci a lui, stiamo aggrappati a lui, perché lui, alleluia, lui ci ama, gloria a Dio, lui non vuole che nessuno si perda, ma che stiamo tutti nella sua presenza, aggrappati a lui, uniti a lui, alleluia, perché Dio è buono, perché Dio è grande, perché Dio è fedele, Dio è misericordioso, guardiamo solo a lui, quanti dicono guardare solo a te, Gesù, alleluia, e indietro mai guardare, non guardare fuori, guarda dentro, perché Gesù è con noi, alleluia, senti la sua presenza, senti la sua pace, senti la sua unzione, che ti avvolge, che ti riempie, senti la sua voce, che ti dice non temere, io sono con te, io sono con te, ma guarda verso di me, guarda verso di me, ti dice il Signore, non guardare altrove, guarda verso di me, io sono con te, alleluia, oh alleluia, 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 sì Signore, perdonaci se a volte noi guardiamo altrove, siamo deboli, siamo deboli, ma vogliamo, Signore, guardare solo a te, vogliamo guardare solo a te, alleluia, 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 guardare solo a te, che sei la vita, la luce, la gloria di Dio, alleluia, grazie Gesù, grazie Gesù, compi la tua opera in ogni cuore, tu sai, Dio mio, quello che devi fare, quello che c'è bisogno, quello, Signore, che manca, alleluia, 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 gloria, gloria a Dio, grazie, grazie Gesù, grazie Gesù, alleluia, 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 ricevi la pace del Signore, ricevi la pace del Signore, ricevi la pace di Cristo, di Cristo, alleluia, alleluia, sì Signore, ci umiliamo davanti a te, grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù, per la tua misericordia, grazie, alleluia, gloria all'eterno, gloria a Dio, amè, 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 gloria al Signore, alleluia, 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 benedetto sia il nome di Gesù Cristo, amè, alleluia, 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 benedetto, 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 grazie Gesù, grazie Padre, nel nome di Gesù, che la pace del Signore rimanga con voi, amè, andiamo avanti, guardando solo a Lui, fratelli, guardando solo a Lui, sorelle, solo a Cristo, dobbiamo guardare, amè, Dio vi continua a riempire, a benedire, a sostenere, gloria a Dio, piacendo al Signore, ci vediamo questa sera alle ore 21 e 30 per la riflessione della parola di Dio, amè, ringraziamo il Signore per come ci ha parlato, ci ha benedetto, ci ha rinnovato anche in questo momento, amè, gloria, gloria a Gesù Cristo, amè, alleluia, grazie Padre, grazie Signore, alleluia, oh alleluia, 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 a te mio Dio tutta la gloria, a te mio Dio tutta la lode, tutta l'adorazione, grazie, Gesù Cristo, Gesù Cristo, grazie, amè, 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 gloria a Dio, gloria al Signore, alleluia, 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 gloria a Dio, grazie Padre, per come ci parli Spirito Santo, alleluia, siamo dei vasi nelle Tue mani Signore, tu ti prendi cura di noi, alleluia, 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 gloria, alleluia, 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 facci brillare con la Tua luce, con la Tua presenza, con la Tua verità Signore, col Tuo Santo Spirito, alleluia, 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 gloria, gloria, Gesù, grazie, grazie Gesù, benedetto il nome del Signore, alleluia, alleluia, gloria al Signore, amè, benedetto il nome di Gesù,